Serve aiuto? No, grazie. Ho quasi finito. In realtà, sono un po' la donna che sussurrava ai tubi. Osserva. Visto? Lonnie 1, perdite 0. Non senti qualcosa? Lonnie 0, perdite 100. Ridley, stai calma. Corro a prendere un aggeggio per rimpiazzare il tubo. Così si può chiudere l'acqua. Correte. Che significa correte? Non va bene. Squadrocchi, insieme! Dobbiamo salvare dei bradipi. Muoviamoci. Arriviamo. Sbrigatevi. Questo era l'ultimo. Ora dobbiamo fermare l'allagamento prima che rovini qualcos'altro. Certamente, Ridley, ma cosa ne facciamo di loro? Scappiamo via. Dobbiamo radunare quelle bestiole prima che Lonnie le veda. Qualcuno ha detto radunare quelle bestiole? Radunare bestiole è una delle nostre attività preferite. È quello che abbiamo fatto in luna di miele. Grazie, Maipa. Voi radunate i bradipi mentre noi pensiamo all'acqua. Ed è rattoppato? Grazie alle mie bende. Ottimo. Così l'acqua uscirà il meno possibile finché Lonnie non torna. Sì! Ma è il museo? Non è il museo! A dopo, scherzo! Sparissi! Ridley, hai avvolto la perdita tutta da sola? Sì, senza alcun tipo di aiuto. Beh, meno male, perché ho scoperto che purtroppo non ho un aggeggio per sostituire questo tubo. Devo ordinarne uno nuovo e può metterci un po'. Fino ad allora non c'è modo di fermare completamente l'acqua. E questi piccolini dovranno andare nel magazzino. Ah, posso pensare io a loro? Promesso.